Iniziamo subito con la prima domanda che mi ha fatto Josaphat Marghetta, che mi chiede basse o alte rep per gli esercizi esplosivi. Allora, questo è un tema interessante. Per definizione, se vogliamo allenare al massimo dell'efficacia la forza esplosiva, dobbiamo necessariamente utilizzare basse ripetizioni ed intervallate anche di parecchio l'una dall'altra, sia all'interno di una singola serie, sia tra una serie e l'altra. Questo perché sostanzialmente non riusciamo ad esprimere massima esplosività facendo un recupero breve e tantomeno riusciamo ad esprimere massima esplosività tante volte consecutive. Di conseguenza, se vogliamo avere quello come focus, quindi la potenza massima, certamente non possiamo farlo a 15, 20, 25 ripetizioni o addirittura di più di quelle. Dobbiamo concentrarci su un numero di ripetizioni decisamente più basso e cercare di mettere maximal intent, ovvero massimo intento di accelerazione, in ogni singola ripetizione. Cosa che, appunto, possiamo fare solo ed esclusivamente se facciamo poche ripetizioni. Ma questo è anche piuttosto intuitivo, se ci pensi. È come se io ti chiedessi, prova a fare il tuo record di sempre, adesso, sui 30 metri e tu riprovassi lo stesso scatto 15-20 volte di fila. Sicuramente il primo sarà il migliore o il secondo sarà il migliore perché magari sarai un pelo più caldo. Certamente non farai il record alla trentesima volta che provi lo sprint. Questo perché, appunto, il corpo poi consuma energia, bisogna recuperare, il sistema nervoso centrale si stanca e via dicendo. Quindi, se vogliamo massimizzare l'allenamento della potenza in una singola serie ed in un singolo allenamento, più serie, neanche troppe, massime intenzioni di accelerazione del bilanciere o della resistenza che stiamo utilizzando e basse ripetizioni. Mi raccomando, tra l'altro, possiamo anche fare, anzi, è suggerito farlo, delle breve pause tra una ripetizione e l'altra. Quindi, se il tuo programma chiama ad un 6x3 di squat jump, ad esempio, le tre ripetizioni possiamo anche intervallarle con 10-15 secondi di riposo tra l'una e l'altra, se non addirittura 20-30 secondi di riposo. Non succede nulla, anzi, potenzialmente per l'esplosività è meglio. È chiaro che se stai cercando di bruciare calorie, allora non è quello il tipo di allenamento ideale, ma per massimizzare la potenza sicuramente delle pause fanno più che comodo.